Ancora un turno infrasettimanale per il Messina che oggi recupererà la gara contro il Palazzolo rinviata in virtù della partecipazione al torneo di Viareggio di un calciatore giallo-verde. I giallorossi ripartono dopo la breve Pasqua seguita al successo sull'Ercolanese e lo fanno sempre con Mister Facciolo in panchina perché Modica s'hanno squalificato ancora due mesi. Lo fanno senza aprisco tra i pali al secondo turno di stop ma con i ritrovati Meo e Cocuzza. I due calciatori hanno recuperato dei rispettivi infortuni e saranno a disposizione del tecnico per il recupero odierno. Una gara da vincere per mantenere alta la tensione in vista dei prossimi impegni a poco più di un mese dalla fine del campionato. In caso di successo il Messina andrebbe a quota 42 punti e potrebbe proiettarsi alle ultime cinque gare dell'anno di cui due in casa e ben tre in trasferta. Bisognerà anche dosare le forze perché già domenica, quattro giorni dall'impegno odierno, i giallorossi incroceranno le Bolitana, altra formazione del Gironei in piena lotta salvezza. Destino vuole che delle ultime sei avversarie, compreso il Palazzolo, ben cinque siano impegnate tra zone play-out e retrocessione rendendo il compito non semplice alla formazione di Modica. Stasera durante la puntata speciale di Contropiede che andrà in onda dalle 21 si parlerà sia della gara di oggi sia del cammino del Messina da qui alla fine del campionato.